Dalle prime luci dell'alba a Torre Annunziata, Torre del Greco, Castellammare di Stabbia, Vico e Quenze, Terzigno, San Giuseppe Vesuviano, Volla e Ponte Cagnano, i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata stanno eseguendo un sequestro preventivo per decine di migliaia di euro per indebita percezione del reddito di cittadinanza nei confronti di soggetti legati ai clan camorristici d'Alessandro, De Luca, Bossa, Minichini, IV Sistema, Batti, Di Gioia Papale, operanti nell'area orientale di Napoli, in quella vesuviana, Oplontina e Stabbiese. Il provvedimento di sequestro è stato emesso dal Tribunale editore Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica Oplontina che ha coordinato l'articolata indagine dei carabinieri del locale nucleo investigativo volta ad individuare indebiti percettori del reddito di cittadinanza. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!